ciao grazie a tutti ciao contenuti mi piace parlare tanto mi piace suonare mi piace fare le canzoni quindi per le chiacchiere magari ci vediamo più tardi grazie mi piace solo e pensi solo a quello che non hai c'è di due qualcosa non vorresti mai ma già lì tu sarai ma già lì non sai ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica ci sta bene la forza delle cose è un po' così come ci viene un risaggio non c'è male di quelli che ricorderai per sempre ma devo accedere fuori forse al cinema supprimerai i miei attimi per sempre vorrei poter chiedere ancora qui e niente di non andare non andare non andare non andare non andare non andare non verrivo